Direttore sportivo del Tivoli Pagliaroli Enrico, un primo tempo in cui a dire il vero il Tivoli si è visto poco. Avete provato nella ripresa però avete aperto un po' ingenerosamente parateria al contropiedere notaresco dopo esservi fatti gol da soli. Insomma una partita strana. Credo che il gol che abbiamo preso è un po' il film di quello che abbiamo fatto vedere nel primo tempo. Io ho già detto ai vostri colleghi che purtroppo dobbiamo approcciare le partite in un'altra maniera perché la maniera in cui abbiamo approcciato sia oggi sia domenica con il Termoni non ci porta da nessuna parte. Per cui dobbiamo avere un po' più di cattiveria, giocare con meno paura perché sembrava come se avessimo paura per provare a fare la nostra partita perché oggi sinceramente non l'abbiamo fatta. Poi come si dice la fortuna aiuta gli audaci. No, noi in questo momento il gol che abbiamo preso così a freddo con un errore nostro è come ho detto prima il film di quello che abbiamo fatto vedere nel primo tempo. La paura li porta a questo insomma. Il mister cosa ha detto negli spogliatori a termine della gara? Il mister ha detto quello che sto dicendo adesso io, non si può giocare con questa paura, dobbiamo tirare fuori gli attributi, dobbiamo cercare di rialzare subito la testa perché domenica ci aspetta un'altra partita importante in cui dobbiamo fare i punti e in cui dobbiamo cominciare a pensare di guardarci un attimino dietro prima che andare a pensare di guardare davanti. Quindi dobbiamo avere umiltà, scendere in campo con cattiveria, coltello in mezzo ai denti e fare il risultato perché in questa maniera e con questa paura non si va da nessuna parte. Questo è un campionato difficile dove tutte le squadre li possono mettere in difficoltà.